Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 30 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzzimib. Dopo i quasi 20 minuti di ieri c'è pochissimo da aggiungere per quanto riguarda oggi. Se avete guardato i future avete notato come dopo l'annuncio della Fed che aveva lasciato i tassi fermi si è volati verso l'alto. Stamattina siamo ritornati di nuovo come future leggermente negativi per quanto riguarda la Germania, meno 22 punti e leggermente positivi per l'Italia, ovvero a più 15 punti, per cui non stiamo facendo cose particolari. Mi sento soltanto di darvi due punti di controllo, ovvero swing, per la prosecuzione del rialzo. Il primo è a 12.864 per quanto riguarda il DAX, dopo la violazione però come al solito, esattamente come è successo qua, bisogna almeno che ci siano dei volumi che ci portino su per far partire un nuovo tp1 e tp2. Per quanto riguarda invece il Fuzzimib siamo a questo punto qua, il punto di controllo è questo, a 19.973. In caso di violazione bisognerà ovviamente andare a vedere che ci siano volumi che ci riportino appunto verso l'alto. Per il resto, su Fuzzimib, come sapete, stiamo cercando di capire se questo è l'ottavo t-3 oppure se è il nuovo t settimanale. Nel caso non dovremo andare, secondo punto di controllo, sotto lo swing assoluto, a inverso, a 19.698. Altra cosa importante sarà vedere quanto tempo rimarremo sopra la media mobile a 50 periodi, perché soltanto se vogliamo invertire la tendenza dovremo rimanerci sopra. Per cui, anche in questo caso, più 20 punti andremo probabilmente magari a contatto con la media mobile, anzi, non con la media mobile, con il livello sbagliore della cumo, e poi andremo però in chiusura del primo t-4, mentre invece per quanto riguarda il DAX, come detto, bisognerà vedere la chiusura del nostro secondo t-3. Ora, ricordandoci che, eventualmente, dopo la chiusura, perché siamo arrivati comunque a 26 barre, bisognerà ritornare, teoricamente, sopra questi massimi per andare a chiudere l'ottavo t-3 inverso e per iniziare ad avere un altro t-3 inverso ribassista, ovvero un rialzo di indice, per andare in chiusura del t partito qua sopra. Direi che non c'è molto altro da dirsi, aggiungerò, ovviamente, elementi più tutti i livelli dell'algoritmo per oggi, sia per DAX che per Fuzzimib, al gruppo di persone che decidono di spendere più tempo con me per l'analisi ciclica evoluta, vi ringrazio e vi auguro una splendida giornata. Per me sarà sicuramente così, perché ho deciso che la voglio così. Buona giornata a tutti!